Gliel'ha chiesto perché è squadra tifa? Come prima cosa. Ma no, non me l'ha chiesto assolutamente. Ma tifa per la Juve? Come? Tifa per la Juve? No, non l'ho mai tifato. No, veramente. Allora, ovviamente ho giocato in Serie A con la Cremonese e con la Lazio, quindi ma non ho un tifo in particolare. Non tifo particolarmente con una squadra. Per evitare sorprese in futuro. Una vera domanda è... No, lo so, so a cosa si riferisce. Però, insomma, ovviamente io un tifo per la squadra per la quale lavoro perché ovviamente quando ero a Lecce ho dato tutto per il Lecce. Quando ero alla Spezia, ho dato tutto per lo Spezia. Adesso che sono a Napoli, per rilasciarmi alla domanda che faceva il suo collega prima anche che era la quale forse non ho risposto, è una grande opportunità. quindi dovrete darò tutto quello che posso dare nel mio email. La domanda invece è...